Salve a tutti ragazzi qui è Giuseppe di Gamer e benvenuti in questo nuovo video Siamo su Tekken Revolution, esclusiva PlayStation 3 E' un vero e proprio free to play ragazzi, il primo Tekken davvero gratuito Facciamo subito una partita, non perdiamoci in chiacchia Partita classificata, ovvero una partita appunto online Avvia ricerca Questi sono i personaggi Allora, abbiamo Love, che è quello che utilizzerò Lo ovviamente come volete chiamarlo Paul, Asuka, Kazuya, Lars, Lily, King, Jack, Six, Alisa e Brian Come vedete accumula appunto i premi per sbloccare i nuovi personaggi E' possibile sbloccare altri personaggi Tranne Eddie ragazzi, Eddie è davvero il personaggio che più mi piace nella saga di Tekken Purtroppo a quanto pare non è stato annunciato se in futuro ci sarà o meno Comunque davvero so utilizzarlo discretamente E invece sono costretto a giocare con altri personaggi con cui non sono poi tanto abituato Come vedete nel frattempo Team ricerca un avversario Come vedete scritto lì in basso E' possibile così allenarsi con un bot Mettiamolo in questi termini In modo tale da magari provare qualche mossa da utilizzare poi successivamente durante lo scontro Comunque Aspettate un po' Io poi che premo talvolta anche tasti random E non mi dite no devi sapere le mosse Perché ragazzi a volte con i tasti random Cioè parliamoci chiaro Si vince qualche incontro Non mi dite che non è così Perché io possiedo precedenti capitoli comunque della saga Perché questo bicchiaduro mi piace davvero molto E molte volte la mia ragazza mi ha battuto premendo tasti random Quindi davvero non mi dite devi conoscere tutti i tasti Comunque non mi ricordo Aspettate con questo come si fa la mossa quella lì davvero potente Che toglie metà energia Davvero non me lo ricordo Ok Beccatene un paio Ah Jack Comunque Jack è davvero lento A new challenger Get ready for the next battle Sincronizzazione in corso Invio dati Benissimo Ora vi faccio vedere se capiterà un altro low Ok il nostro avversario è No lui no Oh kazuya Vabbè comunque penso di essere più forte io Vediamo se riusciamo a sconfiggerlo Attenzione eh Ok Prima mossa l'ho fatta io Attenzione Noi poi che ci picchiamo contemporaneamente Oh 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 No 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 Attenzione Ah ti è andata male eh bro Ok Becca di questo No 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 Alzati No 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 Attenzione Ok Che culo Attenzione Adesso partiamo subito con una mossa potente Spe Ok Attenzione No 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 Cosa ha fatto Quello poi che salta in una maniera Esponenziale Spe No io poi che Cioè mentre lui si gira Ne doveva approfittare Invece no No ci mette troppo tempo a fare sta mossa Attenzione Ok Benissimo Che uccisione Cioè che uccisione Cos'è quello Aspetta eh Partiamo subito bene No 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 Sta mossa la odio con tutto il cuore quando la fa Ah si ed ora lui si sente forte perché fa sempre sta mossa Aspetta eh No Adesso Adesso sono sicuro che perderò Aspetta eh No infatti Vabbè Avevo troppa poca energia per poter competere No Mannaggia Ok Concentrati Concentrati No Ok Ok Danni un paio Vai Benissimo Lanciati No No Benissimo E' la vittoria in pugno Non perderla No Grandissimo Grandissimo Non so come abbia fatto Vediamo No Non me lo fa vedere Un replay Una cosa del genere No Va benissimo Facciamo anche un altro scontro Va Sono in vena di Aspetta Cerca di nuovo Questa Questo scontro l'abbiamo vinto Non ho idea di come Perché di solito ragazzi Cioè Aspettate un po' Ok Perché come dicevo Non mi dite I tasti I tasti non sono importanti Aspetta Guardate Lars lo odio con tutto il cuore Fa delle combo davvero eccezionali Quindi ora Almeno il bot Lo devo distruggere Completamente Aspetta Ovviamente non gli si leva l'energia Lo so ma Lo devo picchiare A prescindere No Ah Cade al suolo New challenger Guardatelo Come è figo così Sincronizzazione In corso Invio dati Invio dati Ok benissimo Yo 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 Si parte Next battle Lars Cioè Non ho nemmeno Finito di dire Odio Lars con tutto il cuore Incontro promozionale C'è una promozione No Vabbè Posso diventare Cioè Posso salire al grado superiore Mentori A quanto pare Quindi concentriamoci No 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 Cos'è C'è stato il lag ragazzi C'è stato il lag Attenzione L'abbiamo messo spalle al muro Ne dobbiamo approfittare No 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 Benissimo Ancora ancora Attacchiamo ancora No 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 ragazzi Fanno ste mosse Li odio Ok benissimo Parti subito forte Parti subito potente Va No 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 Concentrazione No ha parato Ha parato Qua sono morto Farà anche un perfect Ah no No ragazzi Qua sono andato maluccio Concentriamoci Perché ha vinto Già due sfide Se non posso Perdere questa Che divento mentor E qua No 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 Adesso fa la combo Ok Aspettate Cosa fa lui Poi Che si butta a terra E vuole fare le combo Potenti E non ci riesce Ok Concentrazione Benissimo Che io Ce l'abbiamo fatta Può essere C'è il recupero Ho i miei dubbi In realtà Però Aspettate Aspettate Concentriamoci Cos'è No si è bloccato Ragazzi No c'è troppo lag Perché No no Concentrazione Aspettate Può essere C'è la svolta Potrebbe esserci La svolta Potrebbe E c'è la svolta Final round Becca di questa No Non perdiamo ora Perché davvero Love Non te lo perdono Io poi lo chiamo Love Ma la pronuncia Non è questa No Allora No 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 Ok sei mio No Non è mio No 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 Non morire ora No sono morto Sono morto Sono morto Va bene Non importa Va benissimo Così ragazzi L'importante è divertirsi Si scontri E mi fanno divertire Un casino Però Ovviamente Preferirei non morire Ma va benissimo Così Va benissimo Così Dai ragazzi Volevo solamente Mostrarvi un po' Com'era il gioco Nel caso in cui Non sappiate appunto Che è presente sul PSN Completamente Gratuito Gratis Quindi mi raccomando È a gratis Quindi Prendetelo Comunque ragazzi Spero che questo video Breve vi sia piaciuto Nel caso vi ricordo Che potete lasciare Mi piace Un commento Vi ricordo anche Di iscrivervi appunto Se non volete Perdervi i prossimi video Grazie di aver visto Questo video E alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.